pace di cristo fratelli della chiesa di torino e di milano benvenuti a questo giornale apostolico nel nome di gesù sono la sorella flor e volevo condividere con ciascuno di voi è un testimonio che mi è successo tra un mese e oggi tutto è iniziato quando un giorno mio figlio un ragazzo di 15 anni suonava dopo pranzo la batteria lodando il signore suonava la batteria e dopo dieci minuti è bussato la porta di casa nostra ed era un nostro vicino che abita sotto sotto il nostro piano ed era arrivato con un atteggiamento un po scontroso se si può dire no lamentandosi del forte rumore che il suono della batteria rimbalzava nel suo tetto sui muri del del suo appartamento lui questo signore ha un figlio con handicap ha avuto un incidente di automobilista ed è rimasto diciamo paralitico no quando lui è venuto con questo atteggiamento un po scontroso con voglia di discutere litigare il signore mi aveva dato una pace e una saggezza per parlargli no prima di tutto per per tranquillizzarlo per dare per poter avere questa opportunità di parlare di di cristo no che mano a mano che parlava del signore per il suo figlio che può che si può avere una speranza in cristo gesù che dio può cambiare migliorare e guarire la vita di suo figlio è molto amareggiato mi ha risposto che suo figlio si trovava in quella situazione proprio perché era lui a fargli questo no come tutte le persone del mondo credo che la gente nel mondo pensa che c'è un dio però credo che dimentichi che ci sia anche il diavolo perché tutto è sempre colpa di dio se buono o cattivo e questo mi è venuto questo questa gelosia questa zello si può dire no per il signore per amore al signore no difendendo a al signore a dio al nostro signore gesù cristo dicendo che non è così perché così come c'è un dio che salva e restaura e guarisce c'è anche il diavolo che distrugge che è venuto a rubare ammazzare e distruggere ed è rimasto un po stupito e così è rimasto la situazione no però è stata una opportunità per conoscerlo e per poi più avanti visitarlo mi ricordo che l'avevo condiviso con il mio pastore con il pastore pedro e di questa situazione perché mi aveva molto impattato e il suo atteggiamento un po grossolano se si può dire poi mano mano quando parlava si è molto tranquillizzato calmato poi ha usato un tono più gentile no e per suggerenza del pastore dicendomi di portarli una torta e un giorno sia un mezzo un motivo per fare conoscenza e parlare di cristo e così è stato è successo che un giorno infatti ho preparato una torta al cioccolato e ho bussato la porta di casa loro dopo due tre tre tentativi di andare a cercarlo mattina pomeriggio solo alla sera l'ho trovato già quasi un po e mollavo non bussavo più però ho fatto un ultimo sforzo e non l'ho trovato questo signore ma ho trovato alla alla sua ex moglie perché sono separati e c'era la signora la mamma di questo ragazzo massimiliano che che è proprio paralittico no e gentilmente mi ha aperto la porta gli ho offerto questa quella torta e mostrandone l'affetto aprendo aprendo un canale di dialogo di conoscenza per presentare presentare al signore che noi conosciamo no al cristo gesù che noi conosciamo e così è così e la signora molto attentamente gentilmente mi ha fatto entrare a casa sua mi ha presentato a suo figlio che era lì sulla sedia a rotelle e gli ho dato un messaggio di di fede di amore speranza in cristo gesù che che per che per lui tutto è possibile anche se la scienza e la medicina dicono che non si può se dio vuole può guarire se la sua volontà no e questa signora si è riempita molto di fede mi ha guardato con un altro sguardo diverso il signore ha messo grazie a favore verso di me e così è iniziato diciamo un rapporto no e dopo sono successe settimane giorni che tra una cosa e l'altra non l'ho più vista la signora e così un giorno che saranno due settimane fa e mentre io e la mia famiglia stavamo cenando e suonato la porta e ho pensato chi fosse a quest'ora erano più o meno le 8 di sera no e allora ho pensato chi sarà vado ad aprire ed era la la signora di sotto si chiama Laura ed è venuto con un dolce con uno strudel di mele buonissimo è stato gentile importarcelo no e un simbolo un segnale di ringraziamento per quello che che abbiamo parlato per quello non lo so ha stato spinta penso il signore è colui che mette il volere e il fare in ogni persona no e questo ci ha fatto piacere no abbiamo parlato un po' dieci minuti lì sulla porta perché lei aveva fretta per non lasciare solo suo figlio e noi anche perché stavamo cenando no e per me mi ha fatto molto piacere no questo no che da una cosa iniziata diciamo fra virgoletta così male si è finito si è finito iniziato anche un rapporto un mezzo per per parlare del signore no che il signore ci ci possa dare molta sapienza e sapienza e guida indirizzandoci come poter piano piano no è una situazione molto difficile per loro e lei come madre che stanno attraversando per questo suo figlio no e proprio oggi a volte quando succedono delle cose che ti scoraggiano e situazione e qualsiasi cosa il nemico per scoraggiare è proprio molto anche lui è molto saggio e astuto sa come fa sa i nostri punti e deboli sa le nostre debolezze e tramite le nostre debolezze ci attaccano però l'importante è accorgersene e chiudere quella porta e così dopo due settimane che ho avuto il suo piatto dove mi ha portato questo strudel di mele ho pensato oggi che sono uscita dal lavoro pensavo che devo riportarlo già sono troppo tempo che ce l'ho questo piatto della signora e devo riportarlo io ho pensato di comprarle un po' di il mousse di frutta no al supermercato perché suo figlio lo possa mangiare perché lui non è che può masticare visto che ha la disfaggia non può deglutire no e allora con questo pensiero e un po' di cioccolatini mi sono presentata con mia figlia dopo che sono andata a prenderla a scuola sono andata a bussare la porta e darglielo no per non dargli il piatto vuoto me l'ho dato con questo mousse di frutta e questo cioccolatini no e lei molto contenta la signora Laura aprirmi la porta oh giusto ti stavo pensando volevo andarti a cercare ah dico grazie meno male sono venuta io allora e mi dice senti io ho una amica che sta molto male alla sciattica e non conosce nessuno ed è una signora molto paurosa degli aghi ha bisogno di fare iniezioni non è che per caso tu sai fare le iniezioni e io gli ho detto sì sì sono capace di fare le iniezioni mi dice tu potresti farle mi dice sì per me non è un problema ma sì abita nell'altro palazzo mi dice possiamo andare ok va bene e la signora chiama al telefono all'altra signora e siamo andati all'altro palazzo che non mi aspettavo proprio no e così siamo arrivati all'altro palazzo vicino al nostro e quindi mi ha presentata una signora di 45 anni quindi giovane no e mi ha presentata e era molto timorosa no timorosa paurosa che è il fatto di pensare che arrivavo io per fare le iniezioni no e questa signora Laura la mia vicina le diceva no stai tranquilla lei lo sa fare lei lo sa fare anche se neanche mi ha visto lei dice che io sapevo farlo allora erano due fiale di farlo e così e lei iniziava a stare oh mi manca la pressione mi manca l'aria sono nervosa non so ho paura gli aghi allora gli ho detto signora si calmi come si chiama? mi chiamo Anca un nome un po' strano Anca e gli ho detto si calmi stai tranquilla lascia che io possa fare una preghiera per lei allora ho pregato per lei chiedendo al Signore che possa addiestrare le mie mani affinché lei non possa sentire l'ago e l'ago e possa farle possa riuscire a farle questa iniezione no e ho pregato così ringraziando il Signore e gli ho fatto l'iniezione e quando ho finito mi dice hai già finito? e dico sì o neanche l'ho sentito e l'ago mi dice e allora questa signora che mi conosce la mia vicina glielo dice no? hai visto? dice a parte delle iniezioni pure una preghiera ti ha fatta brava Flor brava bravo e mi faceva un po' di complimenti no? quanto brava era no? allora gli ho detto è il Signore che addiestra le mie mani per aver potuto farle queste iniezioni dico mentre le facevo chiedevo al Signore di guarirle tramite anche questa iniezione no? e sono stati un po' colpite no? e magari della fede dell'amore di Cristo che uno può trasmettere in queste piccole cose no? a volte il Signore quando ci troviamo scoraggiati magari o vediamo un po' nero le cose per tirarti su e farti vedere che 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 puoi essere un strumento di benedizione usa queste usa queste cose no? e volevo condividere questa scrittura che dice in Matteo 5 il versetto 14 dice voi siete la luce del mondo una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli alleluia gloria al suo nome questo volevo condividere con voi spero che sia che possa essere di benedizione per voi Dio ci vuole usare solo che tante volte siamo troppo troppo immersi nei nostri problemi me ne accorgo che come questa signora Laura che ha suo figlio con questa disabilità disabile e l'altra signora che ha questa infiammazione lasciatica che non può muoversi è veramente Dio vuole vuole usarsi e sono molto contenta di di essermi di essere stata di benedizione per lei perché non è finita lì perché credevo fosse una iniezione allora la signora prende il suo portafoglio e mi dà 20 euro allora io rifiuto dicendole che no sono venuta perché la signora Laura mi ha detto che aveva bisogno ma volevo farle solo un piacere voglio essere di benedizione per lei e lei insisteva di no e ho detto veramente signora voglio essere di benedizione per lei lascia che io possa benedire di questo modo che signora gli possa benedire in questo modo e ha insistito tanto che nella tasca di Micaela gli ha messo 20 euro e dico ok alla fine l'ho preso l'ho ricevuto ringraziando Dio e dico anzi mi ha detto sono 6 6 iniezioni che devo fare se sarei disponibile a farle nei giorni successivi no quindi che sia che possa essere un modo un'opportunità di parlare di presentare chi è Gesù il Salvatore il Signore come ha detto nella sua scrittura io sono la via la verità e la vita grazie e che Dio vi benedica pace di Cristo